Peccato che non ci sono riuscito, che non ci è riuscito, no? Ok, the Celtic people, years ago, the allied with some new people tried to fight against Romans, but didn't happen anyways. So you recognize that since then started this sort of lovely friendship between Celtic people and some new people. And the other great common denominator to have, of course, the beautiful women here, like the beautiful Irish girls. E' un'altra cosa che ha detto, no abbiamo bellissime donne di lancio, bellissime donne pure quelle. Quindi auguriamoci che come i saniti si sono alleati con i Celti, noi ci alleiamo con voi per far procreare questa nostra bellissima lazza di mucca marchigiana dell'Alto Sannio. We hope that from this point, from this meeting, we can start some things that can bring the marchigiana down over in Ireland and start a sort of more relationship between the farming here and the farming in Ireland. Ok? Ok, ok, ok. Grazie. Grazie. Grazie.